Feste di compleanno che potrebbero costare molto care per alcuni cittadini dell'agro sarnese nocerino che imbarba tutte le disposizioni di prevenzione anti-covid stanno facendo proprio quello che in questo periodo così complicato della pandemia con la terza ondata che fa aumentare sempre più i contagi non dovrebbe essere fatto riunirsi in tanti con assembramenti spesso familiari e che possono provocare il proliferare del virus insomma creare i cosiddetti focolai e dei dati che vengono fuori negli ultimi giorni emerge proprio questo pericolo costante perché sono soprattutto interi nuclei familiari ad essersi contagiati in queste ultime settimane preferiscono festeggiare invece di mantenere il giusto atteggiamento per tentare di tenere lontano il covid nelle ultime ore si sono segnalati assembramenti in abitazioni private per festeggiare feste anche del papà e san giuseppe una zeppola che per alcuni non è stata affatto dolce perché sarebbero scattati controlli e denunce per feste e riunioni casalinghe che hanno visto anche assembramenti pericolosissimi si ricorderà anche che qualche settimana fa ci fu l'episodio della festa di laurea in un locale di pagani così come le forze dell'ordine stanno cercando di monitorare al meglio il territorio proprio per evitare le visite numericamente non giustificabili i controlli quindi aumentano questa mattina personale del commissariato di polizia di stato di nocera inferiore e militari dell'esercito hanno presidiato piazze e strade principali di nocera a quanto pare la situazione è stata abbastanza tranquilla le persone tutto sommato stanno rispettando le regole mentre sono state fermati alcuni soggetti che hanno contratto il virus qualche tempo fa così come sono stati avviati dei controlli e accertamenti tramite l'ASL per verificare lo stato di salute di alcune altre persone